Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi il 25 ottobre 2019, ci troviamo alla fine di Lungotano e Romagenta, inizio Largo Catania, esattamente al Parco Italia, come potete vedere dalle immagini. In fondo abbiamo il ponte Meyer e ora vediamo quello che si trova qua appena dietro questo muretto. Abbiamo una discarica, c'è di tutto, rifiuti di ogni genere. Guardate lo schifo che c'è qua dietro, materassi, pezzi di legno, abbiamo praticamente di tutto. Guardate lo schifo che c'è qua dietro. Guardate, ora c'è un pezzo di ramo che impedisce il passaggio. Cerco di farvi vedere tutto questo tratto. Guardate qua, guardate. Ne abbiamo ancora da questa parte. Materassi, bacchette di plastica, sono quelle per far passare i fili, le canaline. Questa è la situazione che c'è oltre questo muretto. Facciamo ancora un passaggio. Facciamo ancora un passaggio. Ora provvederemo a fare una segnalazione sia all'ufficio ambiente del comune di Alessandria che alla ditta che si occupa del ritiro, recupero, smaltimento, rifiuti. Professore, lei è rimasto giù. Non riesce a vedere, ma... Mi è bastato vedere questo materasso qui. Quello attira... È un anticipo. È un anticipo. Attirano altri rifiuti. E poi, come dire, il pudore, tra virgolette, di questi malviventi ambientali li ha costretti a buttare questa rumenta, questi rifiuti, al di là del muretto, come se nascondendoli alla vista non esistessero. Il problema è ancora più grave perché se sono nascosti alla vista non possono essere raccolti e quindi rimangono lì a macerare, ad inquinare e ad abbruttire il posto. Va bene. Concludiamo questo video. Vedremo con la nostra segnalazione in quanto tempo tutta sta rumenta verrà portata via. Questo è tutto. Ci vedremo e ci vediamo in un altro video. Buona giornata a tutti da Svegliati Alessandria.